ciao fragoline allora nuovo video come leggete dal titolo prodotti finiti 2020 per cui iniziamo cioè vi faccio vedere i prodotti finiti di quest'anno del 2020 prima di iniziare però questo video vi ricordo di iscrivervi al canale attivare la campanellina così non perdete neanche un solo video in cui io pubblico un bel like un commentino qua sotto e ovviamente se volete seguitemi su instagram che li pubblico tutte le cose anche quelle private che io non metterò su youtube oppure sapete anche prima di youtube allora iniziamo perché questo video non voglio che dura tanto e è meglio iniziare per cui vi faccio vedere sono tantissimi prodotti e vi dico come mi sono trovata io ovviamente allora iniziamo da questo fabuloso per i pavimenti dato che allora non mi ricordo i profumi ok allora questo ha un profumo della di lavanda è buonissimo lascia il profumo anche sui pavimenti quando tu lo pulisci cioè pulisci i pavimenti e profuma veramente sia la casa che cioè praticamente è migliore preferirei andare veloce e non stare dietro a spiegarvi tutto diciamo per il meglio vi dico solo se è buono se non è buono se conviene questo conviene ve lo consiglio non mi ricordo prezzi per cui mi dispiace ma è buonissimo per cui ve lo consiglio perché ha un profumo anche buono poi questo di Maybelline io non so mai come si dice comunque è l'acetone per le unghie questo qua è di 125 ml se non sbaglio costa un bel po' non è male non è neanche forte buono diciamo e qua dice che ha un profumo di avocado infatti non è male il profumo ovviamente tira via bene lo smalto per cui posso dire che è promosso mi sono trovata bene forse l'unica cosa se non mi sbaglio costava molto di più verso i 3 euro 4 non mi ricordo però ma di sicuro più o meno ha un prezzo più diciamo alto non credo che lo ricomprerò perché se costa tanto direi di no però non è buono cioè non è buono è buono e ve lo consiglio cioè iniziamo già male a fare questi video poi passiamo a questo che praticamente è il gel per le unghie dove ovviamente tu fai il gel in poche parole questo qua ormai da più di 5 10 anni che ce l'ho l'ho finito adesso cioè in questi mesi perché mi sono fatta le unghie è buono non mi ricordo allora l'ho preso su ebay tramite una ragazza che vendeva il kit del cioè per il gel è buono e non è male questo era il gel quello trasparente mi sono trovata molto bene lo volevo comprare ma alla fine non riesco neanche trovare la marca perché non c'ho neanche la marca di in più come vedete non si legge neanche più la scritta è tutto appiccicoso però mi sono trovata bene poi passiamo al dentifricio white now secondo me buon si buono come dentifricio non lo so non mi ispira tanto perché secondo me tutti i dentifrici che ho provato non mi hanno colpito e non è che fanno così tanto ad esempio questo doveva sbiancare i denti a mai denti sinceramente non è che ha fatto come per dire wow praticamente non lo so potrebbe andare ma secondo me anche come prezzo anche lì un po' esagerato infatti non lo compro quasi mai lo compro solo una volta per provarlo e ci può stare ma secondo me non fa così tanto bianco come dicono e come dicono le persone famose non neanche tra virgolette vabbè lasciamo perdere quindi andiamo avanti allora poi ci sono le salviettine della liccia credo che si dice così queste qui sono iniziamo bene mi cade tutto 30 pezzi questo con acido iaronico sono così allora non finivano più non mi ricordo però sinceramente perché l'ho finito da un bel po' questi dovrebbe allora è anche per waterproof l'odore è buono no dovrebbe essere promosso non mi ricordo perché ci sono certi prodotti che l'ho usati da ormai un mese due mesi e sinceramente certi me le ricordo e certi diciamo di no però io ve le faccio vedere perché non si sa mai se siete interessati diciamo che questo qua dovrebbe andare cioè buono anche come marca questo posso dirvi comunque si potrebbe andare poi passiamo a vet questo è per la crema per le pelli sensibile depilatoria che praticamente li va via tutti i peli vorrei fare una recensione a parte su questo e farvi vedere il risultato e farvi vedere come si usa perché è una bomba io mi sto trovando bene ok costa tanto perché costa sui 10 euro cioè 200 ml mi assicuro che questa qua è fantastica mettete sulla crema la levate aspettate ovviamente cinque minuti e poi dopo ovviamente quando avete diciamo ho levato la crema state certi che aspettando una settimana i peli non crescono per una settimana crescono dopo per cui mi sto trovando bene è un prodotto ottimo ve lo consiglio poi ovviamente farò una recensione a parte però volevo dirvelo perché sono innamorata di questa crema e mi sto trovando veramente bene passiamo al colluttore colgate questo si è buono non c'è niente da dire forse secondo me è troppo forte diciamo come è forte secondo me però non è male questo si potrebbe diciamo ricomprare poi mamma mia che casino passiamo ah no scusate ce l'avevo qua il dentifricio per cui quello che quello che ho detto prima ho parlato perché avevo la scatola ma ho detto qualcosa e sì questo qua però vabbè non sto ad allungarmi poi questa saponetta alle olive 90 grammi allora come odore lascia le mani diciamo morbidi per cui tutte le volte che ti lavi le mani non è male come saponetta però non la compro non la ricomprerei e sinceramente non mi convince per cui direi di no questa è quella poi passiamo ai dischetti di acqua e sapone che sono allora per farvi vedere ne ho presi due per fortuna sono due 80 dischetti non finivano più stavo questo è 100 per cento cotone leva il trucco ah c'erano due lati uno terrificante uno stroccante vabbè comunque in poche parole mi sono trovata malissimo li boccio perché non mi trovo bene e non mi sono trovata bene per cui li boccio non non sto lì a delungarmi perché sono già nove minuti e già anche tanto per cui diciamo che li boccio non mi sono trovata bene appunto poi passiamo a lo struccante per gli occhi di glossip questa è una bomba peccato che non esiste più la marca perché l'hanno eliminata ottimo non mettevi su struccava neanche tipo una passata già il trucco era praticamente andato via mi sono veramente trovata bene peccato davvero che allora questo di 50 ml però peccato che non c'è più sia come marca che come diciamo prodotto perché era ottimo e mi dispiace però davvero era ottimo come prodotto poi passiamo a scusate ma faccio un casino ok passiamo alle mie amate dash che ho fatto una recensione di questo prodotto di come si usava ho ricevuto cattivi commenti sotto in quel video dove diceva che le pastiglie non funzionavano così si doveva mettere il cestello eccetera si ok si dovevano mettere il cestello ma dato che vi ho dato un consiglio di non mettere un cestello perché dato che molte ragazze hanno detto che si attaccava ai vestiti io ho detto perché non provarlo nel cassettino metterlo dentro a vedere se funzionava infatti ha funzionato per cui sono stata diciamo cioè con quei commenti che ho ricevuto sono stata un po delusa perché ho detto scusa io ho fatto una mia recensione ho detto come le uso io non mi puoi dire che che queste pastiglie non vanno bene per la lavatrice che le lavatrici si rovinano per queste pastiglie allora che cavolo lì cioè poi a prescindere che scusate che mi sto arrabbiando però queste non sono di plastica cioè le pastiglie non sono di plastica come mi hanno detto nei commenti vorrei precisare questo io mi sto trovando bene il video l'ho fatto mi dispiace per i commenti negativi che certa gente non capisce niente mi dispiace però io mi trovo bene se no non li comprerei per cui io ve lo consiglio ormai l'ho detto praticamente in tutti i miei prodotti finiti e andrò a ripetere fino a quando non finiranno punto oppure non li metteranno però vi assicuro che sono buoni punto volevo dire questo scusate lo sfogo poi passiamo alla Rocher Yes Rocher queste quattro mini prodottini che ho trovato nel calendario della Rocher se vi ricordate e se mi seguite sono ovviamente qua ne ho finiti quattro ma credo c'erano altri questi qua sono da 50 ml tutte e quattro sono diversi mi sono trovata molto bene hanno dei profumi molto buoni tipo questo ha un buon profumo questo qua è alla se vabbè latte corpo perché scusate ma è scritto così piccolo uno è questo qua non sto a dire i nomi se no qua ci facciamo notte uno è questo poi questo qui che mi sembra che è diverso e un altro è questo qua al marocco lì al marocco vabbè questi così qua mi sono trovata bene l'odore è ottimo come ho detto prima ve li consiglio ci dovrebbe essere quello più grande ve li consiglio io diciamo che già ne ho provato tantissimi per cui sinceramente preferirei provarne altri però se li volete provare ve li consiglio perché sono molto buoni questi prodotti specialmente della Rocher passiamo sempre della Rocher di questa crema vegetale sensibile crema idratante lentiva lenitiva comunque vabbè questa l'ho messa nella faccia diciamo che non è che mi ha soddisfatto tanto neanche del risultato sinceramente non lo so non mi ha colpito tanto per cui ovviamente io non la compro non la ricomprerei però questa l'ho trovata sempre nel calendario come campioncino per provare non è male perché non è male è buona però diciamo che a me non mi è piaciuta tanto però se la volete provare potete provarla ve la consiglio perché non è male a me ovviamente non mi ha diciamo convinto tanto passiamo al correttore di Nabla allora diciamo che il colore non era il mio colore però era buono come correttore mi sono trovata bene per cui per il consiglio il correttore di Nabla andiamo veloce questo della Sephora le liner che praticamente era questo colore qua anche questo ormai da quasi cinque anni che ce l'ho però l'ho finito in questi mesi mi sono trovata bene è un colore fantastico peccato che non c'è più e non lo vendono più però diciamo che è ottimo e vorrei consigliarvelo se diciamo la Sephora le vendeva ancora poi il fantastico che ho finito in questi giorni il mascara di Nabla questo è fantastico lo voglio ricomprare perché l'ho finito e allunga le ciglia fa tanto volume questo è lo scovolino e diciamo che è bellissimo cioè fa un effetto molto molto che mi piace per cui lo voglio ricomprare si chiama Le Film Noir lo vorrei ricomprare per cui ve lo straconsiglio provatelo perché è ottimo poi le due i due ombretti della Wicom ah no uno della Wicom e uno della dai Collistar Collistar Wicom allora mi sono trovata tutte e due molto cioè sono tutte e due ottimi mi sono trovata bene sono facili da applicare infatti dopo cioè li comprerei ancora e li comprerò ancora perché ormai ne ho altre quattro da finire quando finirò anche quelli li comprerei quella cioè sono fatti così il colore è molto ve lo faccio vedere poi anche l'applicazione è proprio wow mi sono trovata bene sono ottimi ci metti cinque minuti per truccarti con questi e adesso per farvi capire ne ho un altro su negli occhi e praticamente è una bomba per cui ve li straconsiglio consiglio sia questo che questo qua della Collistar che come vedete l'ho praticamente finiti e li ho usati tantissimo questi praticamente tutti i giorni usavo questi e sto usando ancora le altre quattro e sono ottimi per cui ve li straconsiglio ultimi tre prodotti velocemente scusate se questo video dura troppo questi tre prodotti sono praticamente della Thailandia l'ho preso in Thailandia vi assicuro che sono delle bombe allora iniziamo da questo che ne ho due ormai l'ho quasi finito vi faccio vedere però la scatoletta questo è per i brufoli per le macchie eccetera sa di timo e aloe vera è fantastico vi assicuro tutti i brufoli tutte le macchiette che ovviamente adesso va bene qua io ne ho uno però non l'ho messa la crema però vi assicuro che questa è una bomba perché vi passa i brufoli dopo neanche un giorno non avete i brufoli eccetera per cui ve lo assicuro quando andate in Thailandia prendetelo oppure anche sul sito c'è anche il sito dove acquistare questi prodotti che vi sto mostrando ovviamente non è una sponsorizzazione ma mi sono veramente trovata bene per cui ve lo assicuro è proprio ottimo questo prodotto vi aiuta a levare via tutti i brufoli poi le due maschere una il mango che questa qua allora in posa sono 20 minuti come odore buonissimo mi sono trovata bene è ottimo come odore mi sono trovata bene lo mettete sui capelli l'ho lasciato in posa per 20 minuti infatti ho scritto qua perché sennò non mi ricordavo che cos'era perché dato è scritto tutto in Thailandia è buonissimo ve lo consiglio se ovviamente c'è scritto Made in Italy sì Made in Italy o proprio qua in Thailandia e sono ottimi quando torno in Thailandia li ricomprerò perché sono veramente buoni però l'unica cosa che mi è piaciuto di più è stato questo qua il cocco tra il mango e il cocco mi è piaciuto di più come diciamo come ha fatto i miei il risultato ai miei capelli praticamente mi sono trovata con l'olio di cocco questo l'ho lasciato in posa 5 minuti ed è buono mi è durato più di 2-3 mesi che sono 50 ml se non mi sbaglio adesso qua è tutto scritto africano arabo-tallandese eccetera comunque è buono anche come odore infatti l'ho praticamente come leccato per farvi cioè per dirvelo e mi sono trovata bene per cui ve lo straconsiglio mi ha fatto i capelli morbidi lisci anzi ce l'ho ancora perché se vedete i miei capelli sono morbidi sono lisci e hanno un risultato cioè molto bello che mi è piaciuto per cui diciamo che tra il mango e il cocco preferirei questo in poche parole allora ho parlato fin troppo come sempre questo video è durato anche tonto invece di farlo di meno bene è durato 21 minuti va bene chiudiamo qua che meglio se no parlo troppo spero che questi prodotti vi siano piaciuti fatemi sapere se li avete provati se non li avete provati e se volete qualche consiglio o non so cosa fatemelo sapere sotto nei commenti vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale attivare la campanellina così non perdete i miei video seguirmi su instagram un bel like e credo che ho detto tutto per cui è meglio chiudere questo video perché sennò dura l'eternità e oltre per cui ciao e al prossimo video ciao